Io credo che il caso sia diventando un pochettino più complesso, però alla base c'è soltanto questi tre carabinieri che sono venuti in possesso di questo video, questo è quello che penso, perché chiamati direttamente dal transessuale hanno fatto un ricatto come non erano capaci di farlo. Poi tutto quello che viene dopo sono soltanto illazioni, si creano secondo me storie parallele che non hanno niente a che vedere con la vera storia. Il problema è uno, io in questo momento oltre ad avere il mio processo ho tanti altri processi, c'è un magistrato che sta indagando e che mi ha fatto una domanda molto importante e secondo me è andato oltre. Purtroppo ancora, anzi non purtroppo, per fortuna oggi la malavita o chi governa l'oscurità dell'Italia ancora non è arrivato a capire il valore di questi video, di questa vita privata, di personaggi importanti specialmente dei personaggi politici. Ripeto, in un'intervista precedente ho detto che il video di Marrazzo a livello commerciale poteva valere forse anche svariati milioni di euro se utilizzato o finito nelle mani sbagliate, perché anziché chiedere, fare un'estorsione per evitare che le foto finiscono sul giornale, si poteva aspettare, mettere da parte e far sì che questo video fosse custodito in un cassetto e magari quando lui fosse diventato direttore della Regione Lazio, anziché chiedere favori o chiedere assegni, si potevano chiedere appalti e oggi quel video avrebbe avuto un valore sicuramente molto superiore rispetto ai soldi chiesti. Ecco, Corona, ma un politico di fronte a un ricatto come può pensare di farla franca? Le chiedo, se fosse andata come lei dice, nel senso che il video costruito in un cassetto quando Marrazzo, se Marrazzo fosse diventato ancora governatore della Regione Lazio poteva essere merce di scambio per ottenere appalti, ma chi dà al politico la certezza che il ricatto finirà in un momento o nell'altro? Perché questo genere di ricatti possono durare tutta la vita, no? Il ricatto non finirà mai in questo caso, perché tutte le persone purtroppo hanno degli altarini e delle cose nascoste. Se gli altarini sono di questo livello e sono così gravi e così pesanti, le possibilità purtroppo, anche se è triste dirlo, sono se si ha veramente il coraggio di tirare fuori la verità, ma non come ha fatto Letterman che ha dichiarato che ha tradito la moglie, lì ci sta perché magari in una certa parte della gente fa anche bella figura, in questo caso vuol dire rovinarsi. Se Marrazzo avesse avuto il coraggio di fare una cosa del genere sarebbe stato veramente un uomo, mi passi il termine, con gli attributi. In altri casi c'è gente che addirittura per evitare problemi si toglie la vita, è successo anche in passato, oppure si accetta un ricatto perché comunque non si vuole lasciare la propria posizione, la propria vita, la propria stabilità e continuare nei propri altarini e magari scendere a compromessi. Cosa che fanno tantissime persone. Allora, Gian Paolo Panza, e questa è una domanda che pongo a Corona e anche a Battista che è ancora in collegamento con noi, Gian Paolo Panza su Riformista questa mattina si chiede come è possibile che Marrazzo avesse tanta disponibilità di soldi da pagare addirittura 5.000 euro per una prestazione con una trans, come è possibile che le sue abitudini ormai diciamo ripetute per anni non fossero venute a conoscenza dell'entourage, dei vertici della regione Lazio e nessuno gli avesse detto che non era un comportamento consono al presidente di una regione. Lei che idea si è fatta? Corona e poi lo chiedo anche a Battista. Ma per quanto riguarda i 5.000 euro io guarda vivo questa storia esattamente un po' come la mia vicenda. Tutto quello che è venuto dopo assolutamente non credo. Conosco il modo dei trans e per pagare una prestazione sessuale 5.000 euro bisognerebbe andare con una delle donne più belle del mondo per pagare una prestazione così alta. Per quanto riguarda i soldi, la cocaina, tutto quello che è venuto dopo bisogna veramente vedere, capire, sapere qual è la verità e tutto quello che viene attorno sono soltanto illazioni. Per quanto riguarda la vita privata ognuno è proprio altanina e la gente addirittura quando si tratta di queste cose, si fanno illazioni ma fa finta di non vedere perché va bene così. Corona, nel processo in cui il Pubblico Ministero ha chiesto per lei sette anni di reclusione, il Pubblico Ministero l'ha definita un uomo accecato dal danaro, una macchina per fare soldi. È tutta una questione di soldi quello che grava questa situazione opaca, oscura che grava sulla informazione, sulla vita quotidiana di questo Paese. Sono i soldi che hanno messo in moto questi meccanismi. I soldi, i trans vengono in Italia perché sanno di poterne fare molti, i politici con i soldi mantengono una vita privata criticabile. È un circuito alimentato dal denaro tutto questo? In questo caso, come tantissimi altri casi, 50-50. C'è persone che muovono le cose per i soldi e altre per il potere. Che sono le due cose che poi muovono tutto quanto, o soldi o poteri. In questo caso c'è una parte commerciante che ha cercato di vendere il video, che lo faceva per interesse economico e invece una parte di potere che lo faceva per interesse politico e di conseguenza anche interesse di potere. Se la condannano a 7 anni? Trovo che sia scandaloso, specialmente alla luce di questo fatto, anche il caso Marrazzo. Il caso Marrazzo è esattamente tale al quale è il caso Lapo. Adesso non voglio venire in questa trasmissione per difendermi, ma trovo assurdo che in Italia ci siano sempre due pesi, due misure a seconda di come uno si comporta, di come uno si presenta o dall'immagine che è l'agenzia che ha provato a vendere il video di Marrazzo a Marrazzo stesso, non è neanche indagata. Io, contattato dalla Fiat, ho cercato di vendere il video alla Fiat e mi sono stato indagato per estorsione. Se mi dovessero condannare trovo che sia scandaloso e come ho fatto sempre nella vita risolverò i problemi momento per momento. Beh, lì in quel caso ci sarà poco da risolvere, non crede? Ma di pari di intenzione tutto. In Italia ci sono tre gradi di condanna, quindi c'è l'assoluto, poi c'è la Cassazione, c'è l'Appello e bisognerà vedere. Io sono assolutamente convinto che non vengo condannato, ma addirittura che rischio l'assoluzione. Rischi l'assoluzione. Corona, per tornare e chiudere in questo momento la nostra trasmissione nata dalla necessità di capire che cosa sta succedendo attorno al caso Marrazzo, io torno alle domande che si è fatta alla collega Fiorenza Sarzanini questa mattina sul Corriere della Sera. Dice, nella casa c'erano molti più dei 5 mila euro di cui parlò Marrazzo, cita un confidente della polizia che era anche uno spacciatore che sarebbe stato presente al fatto e avrebbe addirittura contribuito a fare il video, parla di cocaina. La cocaina, il mondo dei trans e la politica. Sempre di più c'è un circuito, è il caso di dire terribilmente vizioso. Ma io non penso soltanto del mondo politico, io penso purtroppo ormai ovunque. Ci sono varie interviste anche sui settimanali di attualità in questa settimana in Italia dove raccontano che etero e omosessuali hanno come maggior cliente la classica famiglia normale, ovvero gente sposata che ha figli che però bisogna trasgredire perché non accetta la normalità della vita. E quindi chi lo fa con la cocaina, chi lo fa con i trans, chi lo fa con gli omosessuali. Purtroppo oggi le persone hanno bisogno di vita, per avere bisogno di vita fanno delle cose di questo tipo e poi rinnegano anche a loro stessi. Mi piacerebbe continuare, il nostro tempo invece è finito, sono affermazioni diciamo piuttosto significative. Le persone hanno bisogno di vita, dice Fabrizio Corone. Io parlo in tutti i campi. Il problema è che la gente deve capire che chi fa una scelta, io parlavo anche gli artisti o chi fa parte del mondo dello spettacolo, specialmente in questo caso di chi fa parte della politica, determina delle regole, determina dei codici di vita, fa delle leggi, sa che anche se ha dei vizi, se decide di fare, sposare quel tipo di vita deve essere prima di tutto consapevole che chiunque può mettere in piazza la sua vita e siccome chiunque può mettere in piazza la sua vita, se decide di sposare una causa, di fare un certo tipo di lavoro, deve mettere da parte i propri vizi, i propri altarini perché se no le due cose non possono coincidere.